Scuola secondaria di secondo grado, quindi invito Mario Fabiani a salire sul parco scenico e la preparazione di Mario Fabiani è stata curata dal maestro Carlo Trenta e seguirà di Chopin una fantasia improvvisa opera 66 e lo studio numero 9 opera 10 in bocca al lupo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.